Come ti chiami? Canet Kitson. Da dove vieni? Rino. E darai tutto te stesso a questo programma? Sì, signore. Mano destra, prego. Questa è guarita bene. Sensibilità diminuita? No. Non c'è niente che non faresti per questo paese. Hai la forza per fare quello che è necessario. Benvenuto nel programma. Jason Borner ha la punta dell'iceberg. Chi diavolo è? È un agente Outcome. È Threadstone senza contraddizione. Non abbiamo mai visto valutazioni così. 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 Questa è casa. Grazie a tutti